Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Radio Civita in blu. Covid-19 calano i tamponi e calano anche i positivi in provincia di Latina. Stando a quanto reso noto dall'ASL nel bollettino di ieri, che ha visto comunque registrare 30 positività, ma oggettivamente il bilancio era meglio di quello dei giorni precedenti, dove era stato addirittura superato il numero degli 80 positivi. Qua si esente il sud pontino dal nuovo computo, che nella giornata di lunedì ha registrato il solo caso a Caeta. L'ASL di Latina corre ai ripari, poiché i numeri locali coniugati a quelli regionali e a quelli nazionali dei positivi al nuovo coronavirus fanno paura e si teme per l'organizzazione del sistema sanitario proprio durante la seconda ondata. Per questo la riorganizzazione dell'ospedale del capoluogo Il Goretti, che sta predisponendo un nuovo reparto Covid e liberando le terapie intensive. Ma non solo, sospesi anche tutti gli interventi chirurgici non urgenti e persino alcuni ambulatori. E' stato arrestato lunedì mattina a Minturno dai carabinieri del posto un uomo di 61 anni che deve scontare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione in regime di arresti domiciliari per calunnia, nello specifico ad emettere l'ordine di espiazione della pena il Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il reato sarebbe stato commesso nel 2007 ad Ausonia. Raggiunto dalla notifica e terminate le formalità di rito, l'uomo di Minturno è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Tutto pronto per il Festival Visioni Corte International Short Film, giunto alla nona edizione che si terrà a Gaeta dal prossimo 26 novembre fino al 5 dicembre. 107 i cortometraggi selezionati dall'associazione culturale che organizza l'evento denominata Il Sogno di Ulisse. L'edizione di quest'anno, fanno sapere gli organizzatori, avrà la particolarità di svolgersi sia in presenza presso il Cinemateatro Ariston, rispettando le norme di sicurezza previste dal Governo per contrastare l'emergenza Covid-19, che è online per mezzo di una piattaforma attiva sul sito ufficiale del Festival. Quattro serate sold out e tantissimi visitatori alla mostra Il Minturnese con le opere pittoriche di Cristoforo Sparagna. Questi sono i numeri della prima edizione della mostra evento, organizzata anche grazie al contributo della Regione Lazio e del Comune di Minturno. Mostra ed eventi che si sono svolti nel rispetto delle norme anti-Covid-19, con visite alla mostra a gruppi di massimo 20 persone ogni ora e con un numero massimo di 100 partecipanti a serata, ma che ha costretto addirittura gli organizzatori a creare delle liste d'attesa per ogni evento, proprio per far fronte alla domanda di partecipazione. Sport Fondi si prepara a diventare la capitale della box per una sera. Stiamo parlando del 6 novembre, quando, proprio nel palazzetto dello sport locale, si celebrerà il match valido per un titolo mondiale. Il titolo mondiale in questione è quello dei Super Piuma IBO e il match vedrà contrapposti il pugile italiano Michael Magnesi e il ruandese Patrick Kinigamazi. La gara internazionale assume un valore ancora maggiore se si considera che un match valido per un titolo mondiale non si tiene in Italia da ben 11 anni. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarci vi ricordiamo come sempre i nostri contatti, potete scriverci su whatsapp al 348 888 1447 o se preferite via mail a radiociviteinblu.com. Un saluto da Simone Nardone e a risentirci ai prossimi aggiornamenti con l'informazione locale.